Si davano appuntamento al distributore automatico di snack e bibite nel quartiere di Saione, ad Arezzo, ma non per fare merenda, bensì per rifornirsi di hashish. Le macchinette self-service erano infatti diventate un punto di ritrovo fisso, tra alcuni tossicodipendenti della zona e un noto pregiudicato campano, residente a poche centinaia di metri da dove esercitava la sua attività del tutto illecita. Il giro di spaccio adesso è stato scoperto e stroncato dagli uomini della squadra mobile. Gli agenti, infatti, dopo alcuni controlli che hanno permesso di accertare le cessioni di droga, hanno arrestato un 28enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli poi è stato arrestato anche un aretino pregiudicato, anche lui 28enne, che si era rifornito di ben 25 grammi di hashish, quantitativo finalizzato ad essere ulteriormente spacciato in altre zone.